Abbiamo il nuovo presidente, finalmente vedete che basta aspettare anche relativamente poco per avere tutti i giusti aggiornamenti del caso, poi quando leggeremo la notizia della Juventus, il Serie B sarà un altro paio di maniche, ad oggi molto difficile, ma non è questo il tema del video, anzi di questi temi sicuramente avremo tempo e modo, indubbiamente dato che è ciò a cui molti stanno spingendo da ieri dalla notizia delle dimissioni del CDA e del presidente Andre Agnelli, ma nel giro di poche ore appunto già abbiamo avuto dei risvolti, delle novità e soprattutto dei nomi, cosa che la gente cercava intrepidante, sappiamo chi sarà il nuovo direttore generale, va benissimo, un uomo di Elkan e oggi sappiamo anche quello che sarà il nuovo presidente, anche in questo caso si parla tranquillissimamente di un altro uomo di Elkan, ovviamente, del signor Ferrero e io veramente per leggere, no, per dirvi il curriculum del signor Ferrero devo leggere perché non so dove cazzo trovi il tempo per fare tutte queste robe, ma evidentemente le fa e va benissimo, speriamo trovi anche il tempo di essere presidente della Juventus a questo punto vedendo l'elenco di mansioni che svolge, l'unica cosa che Exor ci ha fatto sapere in un comunicato che anche lui ha una passione per il club bianconero, quindi è un tifoso a tutti gli effetti, ma speriamo più che altro faccia un buon lavoro, un buon lavoro, speriamo che Gian Lucone sia in grado della nomina che gli è stata effettivamente affidata, che non è propriamente una nomina banale, ma chi è banalmente quest'uomo e qui devo andare per forza di cose alla lettura, è un uomo che è iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed è anche iscritto al registro dei revisori legali, quindi già qui ti fa capire probabilmente il perché sia stato messo come presidente della Juventus, solamente da dove è iscritto, ecco, e se poi andiamo a vedere anche quali attività svolge, tutto prende una piega ancora più importante, volendo, questo perché è il presidente del collegio sindacale di Fincantieri, Luigi Lavazza, Biotronic Italia, Praxi Intellectual Property, P fiduciaria, Emilio Lavazza, G di gruppo editoriale, dove sempre è direttore generale anche quello che sarà il direttore generale della Juventus, quindi anche in questo caso uomo Elkan e va benissimo, poi Nuo e Lifenet, molte le sento davvero per la prima volta, ma evidentemente no, sono anche tutte cose che riguardano gli investimenti, i conti, i bilanci, anche magari è vicepresidente del consiglio di amministrazione della Banca del Piemonte e componente del consiglio di amministrazione d'Italia Independent Group e Pigar, viva la Pigar, ecco, poi non so se sia la pronuncia corretta, però da quello che si evince, ecco, senza poi entrare particolarmente nel tecnico e che fondamentalmente pare che Elkan abbia deciso di mettere l'artiglieria pesante per rispondere fondamentalmente alle accuse riguardo i bilanci, riguardo la Consob e quant'altro, perché sembra tutta gente estremamente tecnica ed estremamente preparata sotto questo aspetto e probabilmente, non so, magari mi sbaglio, ma vedo la scelta di mettere questi determinati uomini per un periodo di tempo relativamente breve, non lo vedo come un progetto sul medio-lungo periodo come era stato magari proprio nel 2010 quando si era deciso di mettere Andrea Agnelli a capo della presidenza della Juventus, in quel caso magari c'erano i presupposti per avviare un progetto sul medio-lungo periodo che è stato 12 anni e magari nell'idea generale quella volta c'era l'ipotesi di mantenere la presidenza per ancora più tempo, però una dozzina d'anni comunque non sono pochi e va bene, in questo caso la vedo come più una scelta momentanea per questa vicenda. Poi, non lo so, magari Ferrero e tutti quelli che saranno all'interno del CDA faranno talmente tanto bene e risulteranno talmente tanto competenti per una società di calcio per continuare per ulteriori anni, ma non lo so, onestamente ho questa sensazione. Penso sia proprio una scelta momentanea quella di porre questi personaggi, come per dire ok, dato che noi al momento ci dobbiamo occupare di questa situazione dei bilanci, mettiamo a carico chi fondamentalmente ne sa apacchi, sa spiegare, sa rispondere e soprattutto spero fa capire che la Juventus comunque abbia agito in un modo corretto o magari no, se ha sbagliato spiegando il perché e il per come. Poi, quando tutta questa situazione si calma, si penserà ad un CDA, ad un presidente, ad un organigramma per aprire un progetto sul medio-lungo periodo. Ciò sta a significare che finché ci saranno questi personaggi la Juventus non penserà al futuro, non penserà alla parte sportiva? No, o quantomeno lo spero, ma sappiamo che comunque ok, si è dimesso il CDA, si è dimesso il presidente, ma la dirigenza intesa come Cherubini e quant'altro continuano ad essere a tutti gli effetti dei dipendenti della Juventus e continueranno a svolgere le loro mansioni all'interno della Juventus come era banalmente fino a cinque mesi fa, per dire. Quindi da questo punto di vista si andrà avanti con gli stessi nomi e speriamo con dei risultati che alla fine per il tifoso sono sempre la cosa più importante. Per quanto riguarda invece il CDA ad oggi pare anche evidente ci sia una determinata cosa da dover risolvere e una volta che verrà risolta io, quantomeno magari mi sbaglio, mi aspetto dei cambiamenti con dei nomi per imbastire un progetto sul medio-lungo periodo. Questa appunto mi sembra più una cosa momentanea per superare questo problema, tutto qui. Poi io magari mi sbaglio, è solo che veramente vedendo che sta mettendo lì gente coi controcoglioni per quanto riguardi i conti, i bilanci e tutte queste cose qui. Magari anche a causa dell'ignoranza assolutamente mi è venuto da pensare questa cosa, poi magari può essere totalmente sbagliata e ci mancherebbe altro. Però ho letto anche già diverse persone pensarla come me, non sta a significare che tante persone non possono pensare un qualcosa di sbagliato, però magari è per dire che a molti è venuto naturale pensare a questo fatto. Però il presidente c'è, Gianlucone Ferrero c'è, tra l'altro anche un bel uomo in bocca al lupo. Penso avrà decisamente bisogno di un in bocca al lupo, ma fino a una certa, perché quando sei un uomo competente che sai cosa fai, va bene, tutti gli in bocca al lupo del mondo, ma se non sei competente ci fai poco, ecco. Però sicuramente in bocca al lupo perché avrà da lavorare, da lavorare eppure tanto. Già vedendo il curriculum presumibilmente è abituato a questo, sembra abbastanza palese come cosa, speriamolo sia anche nel caso della Juventus con una giusta qualità, perché ne abbiamo dannatamente bisogno. Salvaci te, ti ha messo Elkan perché evidentemente ti hai ritenuto l'uomo ideale, tu sei sempre stato un uomo Elkan e un uomo Agnelli. Forza, Gianlucone Valache, dai, ci devi togliere dalle grane. Io confido in te, soprattutto a cazzo, per i ruoli che ricopri, perché porca puttana ad avercene, ecco quello indubbiamente. Ho visto anche che già della gente ha iniziato a paragonarlo ad un Cobolligigli, io non mi sbilancio, uè perché quando c'era Cobolligigli ero piccolino e quindi certe cose le seguivo, ma non le seguivo, mi limitavo a smadonare sulla Juventus che da che vinceva contro il Catania si faceva rimontare 2-2 al 95esimo con punizione all'angolino di Cicciolodi. Mi limitavo a quello, non mi limitavo, cioè non andavo su temi dannatamente extracampo come il Presidente, tutte le vicende che coinvolgono il Presidente. Però mi auguro di no, ecco, mi auguro che sia un uomo all'altezza, perché Cobolligigli non è che abbia lasciato particolarmente un ricordidilliaco, ma qui fino a prova contraria lo vedremo solamente col tempo. Ecco, l'unica cosa che gli possiamo dire è in bocca al lupo e fai del tuo meglio, sperando che il tuo meglio sia molto bene, ecco, perché altrimenti potrebbero lasciare cassa di mai un altro paio di maniche. Detto questo, ragazzuoli, nulla, io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine. Forza Juve! Ciao!